No, 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 non sto parlando di cambiare sistema di gioco in base a chi affronti, il sistema di gioco tuo è sempre quello, ci mancherebbe, però devi avere degli accorgimenti sulla squadra che andrai ad incontrare. Se io domenica gioco contro la Roma all'Olimpico è molto probabile che dovrò preparare durante la settimana una partita sulla ripartenza, è probabile, non è sicuro, però è duro che la Roma gioca in casa contro la Roma che sta all'ottopo scudetto, gioca con una squadra medio-bassa, è difficile che la Roma non faccia la partita, quindi ti dovrai attrezzare a difendere bene, a recuperare palla e poi essere brava a ripartire.